E' un'accelerazione decisa che può far decollare definitivamente il mercato dell'Avellino. Quella che sembrava solo una suggestione è invece una dolce realtà. Francesco Tavano sarà un giocatore bianco-verde nella prossima stagione. In questi minuti l'ex Valencia e Roma sta risolvendo il suo contratto con l'Empoli, società che lo ha lanciato nel grande calcio e con cui ha disputato le ultime quattro stagioni. Il bomber di Caserta si avvicinerà a casa svincolandosi e accettando l'offerta dell'Avellino. Un contratto annuale con opzione per il secondo. L'accordo si allungherebbe di un ulteriore anno in caso di promozione in Serie A. La punta classe 79 entrerà a far parte quindi del reparto offensivo a disposizione di Attilio Tesser. Ma i colpi dell'Avellino non finiscono qui. Per la linea mediana è stato raggiunto l'accordo con Roberto Gagliardini. Manca solo la firma per l'arrivo in Irpina del centrocampista dell'Atalanta lo scorso anno in prestito allo Spezia. Per il reparto nevralgico spunta inoltre la pista che porta a De Manu al Cascione, figlio di Armando, calciatore bianco-verde nella stagione 82-83 e protagonista in A la scorsa stagione con il Cesena. Intanto prosegue il tour di presentazione del libro di Paolo Paiuca, Paolo 1, l'Infoma 0. Il collaboratore tecnico dell'US Avellino ha presentato il libro a San Martino Valle Caudina. Si vince con la caparbietà dell'essere Irpino, con gli artigli, con i denti, con le zanne, con tutto ciò che è possibile aggrapparsi, anche ai dolori, perché no? E ti dici che stagione a crepare un corpo, cioè io devo essere più forte di lui perché non è possibile. Grazie a tutti.